Musica Venerdì 25 ottobre, buongiorno e ben ritrovati con la nostra informazione. Oggi vi parliamo di una cosa che ci riguarda. Telemolisi allarga il suo bacino di utenza ed espande il suo segnale fino alla Puglia e alla Basilicata. L'obiettivo è far conoscere il Molise con le sue storie, le sue bellezze e i suoi tesori nascosti ad una platea sempre più ampia. Sentiamo il nostro direttore Emanuela Petescia. TV leader della regione, stretta il suo tessuto sociale in un abbraccio affettivo ancora prima che informativo, tanto da raggiungere una audience che con il conforto dei dati tecnici potremmo definire unica al mondo nel rapporto popolazione percentuale di ascolti, Telemolise procede nel progetto ambizioso di estendere il suo bacino di utenza, ampliando il segnale in altri territori. Non si tratta di diffondere notizie che riguardano aree geografiche strane al contesto locale. Si tratta bensì di far conoscere il Molise a una platea più grande, la più ampia possibile. Così come era già avvenuto in Abruzzo, dove la nostra TV risulta addirittura seconda per ascolti, pur trattando argomenti esclusivamente molisani, ecco che oggi Telemolise accende i suoi canali anche in Puglia e in Basilicata, al numero 81 del telecomando. L'obiettivo di Quintino Pallante, imprenditore del settore radiotelevisivo, di grandissima lungimiranza editoriale, è quello di proiettare il nostro Molise fuori dai confini regionali, con le sue vicende quotidiane e le sue storie, ma anche con le sue bellezze, i suoi paesaggi incantevoli e i suoi prodotti di straordinaria qualità. Insomma, la TV dovrebbe fare, in termini di marketing, quello che finora non è riuscito a fare nessuno, un immenso spot di promozione del territorio. Innamorarsi della nostra terra non è difficile, a chi non piacerebbe immergersi nella nostra natura, nella nostra storia o nelle testimonianze archeologiche, chi non apprezzerebbe le tradizioni, il folclore, i piatti prelibati o le bandiere blu. Ma l'ostacolo principale risiede nell'esistenza stessa del Molise, oggi messa addirittura in dubbio, con intenti satirici o provocatori. Il Molise non esiste, recita uno slogan noto e parecchio abusato, fatto sta che non si può ammirare o valorizzare ciò che non si conosce. E allora Telemolise, estendendo i suoi canali, vuole contribuire a questa grande campagna di promozione. Così, tra un tasto e l'altro, un canale e l'altro, un programma e l'altro, insieme all'informazione puntuale e rigorosa che contraddistingue la nostra televisione, quel pubblico così ampio che ci proponiamo di intercettare si troverà davanti ai misteri di Campobasso o al Borgo Antico di Termoli, ammirerà il Museo del Paleolitico di Sernia o l'Andocciata di Agnone, la Neve di Capracotta o il Diavolo di Tufara. E potrà farsi un'idea più precisa della straordinaria natura e della fortissima identità di questa fantastica regione che si chiama Molise. Lasciamo l'informazione, andiamo alla rassegna stampa dei quotidiani di oggi. Iniziamo dal giornale del Molise.it. Vediamo la foto dei colleghi Catenaro e Di Giacomo. Il titolo è Incontri inaspettati, incontro inaspettato in particolare con l'attore olivudiano Martin Xoccas che è in giro per Campobasso. Vediamo qualche altra notizia. Ragazzi tratti in salvo, intervento dei vigili del fuoco al lago di Guardia Alfiera, poi immigrato tunisino e invade dal carcere di Campobasso, preso in un'ora dagli agenti della squadra mobile. Unimol laurea alla memoria, la studentessa morta in un incidente stradale. Salcito ladri in azione nell'area urbana da poco riqualificata e poi giovane va dai domiciliari per rubare ancora il restato a Termoli. Il giornalino della scuola Jovine di Campobasso, premiato al concorso nazionale Penne Sconosciute. CBLive, comitato di sorveglianza centrale, il confronto con il partenariato per la spesa dei fondi europei. Poi a Campobasso la seconda edizione di sabato al Borgo. Scontro sulla Bifernina tra auto e furgone, donna trasportata in ospedale. Press, Molise, Lazio, INA e le poste italiane insieme per la prevenzione, poi comitato di sorveglianza centrale, il confronto con il partenariato per la spesa dei fondi europei. Poi il 31 ottobre la ventunesima edizione della giornata nazionale del trekking urbano. Primo piano Molise, riconversione Unilever P2P non convince in vitalia. Il progetto che attende da mesi l'ok per il finanziamento ad un passo dal naufragio. Cresce la preoccupazione per le sorti dei lavoratori. Poi fondi europei spesa al palo, ma la regione corre ai ripari. Ieri la seduta del comitato di sorveglianza a Roberti e Iorio. Cambio della guardia e bilancio hanno rallentato l'iter, pronti a velocizzare gli investimenti per la ripresa. Sabato al Borgo, si accende il centro storico della città, esplosione di musica, arte, tradizioni, moda e sapori. Vediamo lo sport, Campobasso, Braglia, vogliamo proseguire così. Occhio al Sestri, Levante. Serie D, Isernia, le scelte di Farrocco decisive per la clamorosa rimonta, poi basket, l'Air Termoli cerca il riscatto nella partita contro il Canosa di Puglia. Quotidiani nazionali, la Repubblica, Conte, licenze a Grillo, stop al contratto da 300 mila euro, il fondatore non molla, Casaleggio Junior resterà uno solo, ma di elettore, colloquio con il leader del movimento, anche il ruolo del garante può sparire, non è un parricidio. Manovra, la maggioranza già pensa a modifiche, FMI, allarme, debito. Poi Bologna chiude la fabbrica della morte, Mattarella, non ho più parole, oggi lo sciopero per la sicurezza. La stampa, Spano, attacchi incivili contro di me, manovra stangata da 6 mila euro sulle detrazioni, nuovo cuneo fiscale, ecco chi ci rimette. Intervista all'ex consulente di Giulie, il mio compagno ha vinto un bando, il ministro da Meloni minaccia le dimissioni. Così sono morti gli operai della Toyota, la procura di Bologna apre un'inchiesta per omicidio colposo, è esploso l'impianto di climatizzazione. Il messaggero spese deducibili solo con il POS, la misura anti-evasione in manovra, per poter scontare il costo di taxi e ristoranti, si dovrà pagare con la carta. Sanità, nodo organici sulle liste schillaci, richiama le regioni, RAI salta alla riduzione del canone. Ucciso a 15 anni a Napoli, la guerra dei giovanissimi, sparatoria tra bande in pieno centro, muore un ragazzino incensurato, fermato un coetaneo. Avvenire, ritrovare il cuore per l'uomo e il mondo, l'enciclica di Lex Itnos, la quarta di Francesco, abbiamo smarrito il cuore, Gesù ci dona il suo. Corriere della Sera, manovra a fronte delle proteste, mobilitazioni per le scuole e pensioni, RAI canone a 90 euro, spinta per i ritocchi. Le opposizioni all'attacco, i conti del Ministero, 1.000 euro in più ai redditi, fino a 35.000 lordi. Vittime sul lavoro, lo sdegno del colle, la fabbrica chiude, Toyota, 850 operai a casa, poi a Napoli, spari tra bande, ucciso in strada, a 15 anni. Il fatto quotidiano, il quadro fu rubato e poi taroccato, sgarbi rischia, il falsario confessa, IPM, riciclaggio e contraffazione. Chiusa l'inchiesta, macerata, la procura ipotizza reati, dai 4 e 12 anni, sul Manetti, trafugato nel 2013, e riapparso nel 2021, decisiva una perizia. Il manifesto titola La Cacciata, l'esercito israeliano, fa saltare in aria 11 palazzi, a Jabalia, è un massacro, 150 tra uccisi e feriti, dopo 20 giorni di assedio, decine di migliaia di palestinesi, espulsi dal nord di Gaza, rifugi dati alle fiamme, arresti e fuoco sugli ospedali, il piano dei generali è in corso. Bologna, dopo il disastro, la Toyota si ferma, l'azienda sospende le attività in seguito alla morte di due operai e scatta la CIG. Il tempo, abbiamo abolito Grillo, Conte licenze, il fondatore del Movimento 5 Stelle, e gli leva lo stipendio, bufera in Parlamento, diteci se lo pagate con i soldi pubblici. Continuiamo con i quotidiani nazionali, libero voci, minacce e colpi bassi, e assalto a Giulie, il premier, chiama il responsabile della cultura, la tradizione laica dell'MSI, la destra omofoba, no, ricordate, Almirante. La verità, soldi, sesso e amici di sinistra, la cultura si torna a ballare, il caso Spano non finisce più, Ranucci annuncia, domenica un altro scoop, che riguarda Giulie. Scalfarotto e Ferrara accusano l'omofobia, ma non c'entra nulla, partito in ansia per la scelta del nuovo capo di gabinetto. Fondi PNRR, mangiati con la scusa dei migranti, max inchiesta per corruzione, sugli appalti dei denari dell'Unione Europea, destinati all'accoglienza, ha arrestato pure un sindaco. Il centro, il mistero del Gran Sasso, parte l'inchiesta sull'intorbidamento dell'acqua, ma ancora non sono chiari i tempi e chiusure del traforo, l'esperto Morelli, non forate la montagna. Lutto nel calcio è morto Marinelli, lo storico presidente del Pescara e dirigente dell'Under 21, aveva 88 anni, oggi il funerale. Sfilano i no al G7, basta guerra, è chiuso il vertice di Pescara, tagliani risultati concreti, un passo verso la pace. Oltre 50 mila cittadini a secco, rubinetti chiusi in nove comuni, la ASL non utilizzate l'acqua, emergenza nell'area vestina, al vitello d'oro. Il secolo d'Italia, il vaffa di Conte a Grillo, contratto stracciato, Casaleggio, gli resterà solo un elettore. E infine andiamo alla Gazzetta dello Sport, Ibra confessa il Milan, consigli e carezze per svegliare Leao, ma per Fonseca, Pulisci nuovo leader. Poi Fratelli Scudetto, Marcus contro Kefren, ma papà Lilian tifa bianco-nero. Poi l'Italia fa 3 su 3, in Europa vittoria anche per la Fiorentina. Pedro spinge la Lazio al comando. E con la Gazzetta dello Sport concludiamo il nostro appuntamento con l'informazione e la rassegna stampa. Grazie per l'attenzione. Appuntamento alle 14 con le notizie di Telemolise. Buona giornata. Grazie per la visione.